Il tuo naufragar medolce in questo mar e il barchetto pesarese sperano i tifosi Granata possa affondare qui al Mancini in questo pomeriggio. Di nuovo buon pomeriggio dallo Stadio Mancini di Fano. Sergio Catalani vi accoglie in questo infuocato clima del Mancini. È tutto pronto per l'inizio di questo derby. Sivilla, bellissimo per Favo. Ancora Sivilla il tiro e il gol! GOOOOOOOL! 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 La Viz non ci sta, a Bugaro intanto c'è Clemente che va giù. Attenzione, è incredibile. Clemente in vantaggio, rigore per la Viz. Siamo convinti che Ginestra parerà questo calcio di rigore. Parte Bugaro il tiro e il gol. 1-1. Sassaroli intanto il tocco verso lo Russo. Mette nel mezzo lo Russo. C'è Gucci, Gucci, Gucci! 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 Nicolò! L'attacco per la Viz De Julis. De Julis in area. Il tiro di De Julis, attenzione! C'è il gol della Viz. Il gol della Viz sotto misura. Il tiro di De Julis e il gol della Viz. Si smarca lo Russo. Sivilla serve Lunardini. Quindi a Borrelli, appena entra l'area di rigore. Borrelli, il cross di Davide Sivilla. E GOOOOOOOL! 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 STREPITOSO! Verso Sartori. Gucci di prima intenzione. Gucci! approvato, Gucci! Proprio al 90... Ormai il 96esimo, quasi. Altri due diretti... 95. Il direttore di gara non fischia. Incredibile. Eccolo! È finita! È finita! Alma Juventus fanno. Batte di Spesaro. 3 a 2 al termine di questi 95 minuti palpitanti. Una grandissima Alma Juventus fanno con un grandissimo Sivilla. Piega un'indomita Viz che ci ha provato fino alla fine.